Ok raga, ci siamo, mi sono appena svegliato, normalmente a quest'ora non pullo, o comunque non registro, magari pullo ma non registro Oggi invece c'è Gohan, quindi si pull e si registra, chiaramente ho il portatile a letto, quindi sto qui bello tranquillo, bello nel chilling Andiamo subito a vedere cosa c'è in questo banner merdoso, anche se l'avevo un po' intravisto ieri Ok Gohan, chiaramente lo vogliamo, lo diciamo subito, Toshi, so che sei un uomo di fede e so che sai che mi rivolgo spesso a questa divinità quando me la prendo Quindi so che lo proteggerai e mi darai Gohan a suo giro molto bene, molto in fretta, quindi Gohan Ultra, chiaramente lo vogliamo La bestia, raga, la bestia nel mio account sempre ben accetta, finchè non ce l'ho a 14, sempre ben accetta, nei limiti chiaramente Non mi fai uscire tutti bestie e nessun Gohan Ultra, però diciamo come contorno la bestia ben accetta Cell, raga che devo dirvi, ce l'ho a 4 stelle, quindi una coppia magari un paio, cioè nel senso nel dolore diciamo che lo accetto Mirai Gohan, io penso quando riceverà lo Zenkai sarà veramente un animale incredibile, non ce l'ho a 14, quindi tutto sommato se esce non ci sputo Ecco questo Gohan qui invece è l'unico che ho già a 14, per cortesia se mi deve uscire un LF non mi far uscire lui Tutto il resto è direi monnezza, chi più chi meno, ma il punto è che non li voglio, quindi vabbè, se mi devo uscire qualcuno Che mi esca qualcuno che non ho a 14, ma è completamente irrilevante Raga, c'ho la strizza, 36.000 crono, comunque sono tante ma non tantissime Sì è vero che se non avessi pullato le multi Z o da Vegeta ne avrei avuto di più, però siamo onesti Cioè non è che si può arrivare sempre ai banner con 100.000, cioè a un certo punto bisogna anche rendersi conto Che 36.000 è una cifra buona per un banner e che sarebbe normale trovarlo anche in più di una copia Comunque partiamo, ho già fatto un monologo di un paio di minuti per svegliarmi Partiamo, chiaramente vogliamo questo signore qui, questo qua ultra e si parte dai, si parte senza ulteriori indugi Oh cielo rosso, 5 pod prima multi, io me l'accollo, mi sembra una buona partenza, vediamo Ok, pugno in pancia per freezer, quindi non abbiamo Oh raga, raga, si parte così di prima mattina Penny, penny al cielo, penny al cielo, via, penny al cielo Taipai, taipai, bastone al cielo, palo al cielo, taipai, palo al cielo Vediamo Vediamo chi ci porta la sfera, non ci porterà assolutamente nessuno, chiaramente, lo sappiamo Ok Dai, anche una bella bestia, una bella bestia per partire Allora, ecco, ho chiesto, la bestia, niente Gohan al limite, Mirai, niente, Gohan ultra niente, mi arriva Gohan questo, va bene, ok Ok, abbiamo trovato la coppia che fa da protagonista questo banner in un certo senso E Vegito che non c'entra niente Ok, una partenza direi che ci fa un attimino sentire presi per il culo Lo dobbiamo dire Ora andiamo con l'ultra race per due Qui ci esce subito, subito Gohan ultra Così io me ne vado a far colazione bello tranquillo, bello rilassato Cosa che non succederà, quindi mi meriterò il digiuno Perché se non lo trovo digiunerò Oh, raga, spazio, tre pod un po' merdose Devo dire un po' merdose con le tre pod, però perlomeno abbiamo lo spazio Mi piacerebbe una volta trovarmi la ultra subito E non dover patire le pene dell'inferno andando all in Come di solito mi succede quando una ultra la voglio parecchio Ok L'animazione devo dire è un po' con le pezze al culo Ok Ok Non ci sarà niente Nella ultra race per due non c'è mai niente Ultra scam per due Che però non mi dà tutte iro, santa madonna Ecco la mia ultra race per due Sette iro, due extreme e una merdina fumante Ok Andiamo avanti, non ci perdiamo d'animo già da subito Nuvoletta Nuvoletta Super Saiyan Blue Cielo verde che ci sta un po' Ci sta lì a dire ci so io Ci so io che ti scammo Nuvoletta vabbè Tanto la nuvoletta per me in questi banner è sempre lf Sempre Quindi La bestia o Cell Sarei soddisfatto Chiaramente vorrei Gohan Ultra Chiaramente Ok Ok Basta prendermi per il culo con questi Gohan Grazie Ti prego Ti prego Me ne hai dati già tutti Tranne quello giusto Bojack Boh Raga Cioè Andava bene chiunque tranne che lui Chiunque andava bene tranne che lui Ma io non lo so Vabbè dai Poi uno non deve bestemmiare E almeno questo va a 14 Dai Chiunque andava bene tranne che lui Chiunque Va bene Grazie eh Toshi Grazie Andiamo con la free C'è lo blu tre pod Ancora questi tre pod che mi stanno lì a scammare Mi stanno lì a dire Eh Ti garberebbe C'è un bel broli No Chiaramente non c'è Però il cielo blu di solito Mi rende confidente Tanto mi uscirà Se mi esce un altro LF Mi riesce quel Gohan lì Chiaro Vediamo Vabbè 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 Lo stelliamo Un domani che riceverà lo Zenkai Ok Ok Penso non ci sia altro Taipei Taipei ti sei fatto vedere Eh ma così non va tanto bene Cell Mamma mia Ok Va bene Ci avviciniamo allo Zenkai Allora ora voglio fare L'avevo già deciso Chiaramente non l'ho detto prima Per Scannamanzia Un esperimento per il bene Dell'umanità Ovvero Voglio andare a shopparmi l'offerta Da 1000 krono Per vedere se effettivamente Dandogli quel cash Che gli darei comunque Perché l'offertina la piglierei Loro mi dicono Va bene dai Ci hai pagato Da C-Gohan Quindi lo vedete 33.240 Vado Chiaramente taglio Perché non volete sapere I cazzi miei E ritorno Ok siamo ritornati Questo l'ho fatto Chiaramente per il bene Della scienza Per il bene Dell'umanità Stabiliamo Se Dandogli dei soldi Ci dicono Ma sai che c'è Ti rendo felice Così me ne dai Dell'altri Stabiliamolo Subito Vado a farmi Un altro giro Poi scherzi a parte Me ne vado a mangiare E pulleremo Chiaramente ancora Oggi pomeriggio Credo Quindi ripartiamo Dacci lui Ho pagato Dacci lui Vediamo se Con queste Mille crono Abbiamo sbloccato Qualcosa Era tanto che volevo Fare questa prova In diretta Taipei Abbiamo sbloccato Taipei Al costo di 10 euro Abbiamo sbloccato Taipei Vediamo Taipei Non ci porterai niente Taipei hai preso i nostri soldi E te ne sei scappato Vediamo Freezer si capa addosso Sta spruzzando Ok Prossima multi Cielo marrone Quindi Vediamo Va bene Cioè in realtà Dico sempre che va bene Ma non va mai bene Perché vogliamo Quella ultra maledetta Cosa che Non succederà Mi prosciugheranno Tutti i miei veri Tutto Quello che ho messo da parte Con fatica C'è Dacci roba Mamma mia Oh mamma mia Partenza un po' Scammò Cioè mettiamo che io Avesse avuto zero crono Questi Sarebbero stati I miei 10 euro Capite che c'è qualcosa Che non va tanto bene Comunque vabbè Ultra rates per due Confidiamo Di solito Ci scamba Ma a sto giro A sto giro Abbiamo pagato C'è lo blu 5 pod Buono 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 Vediamo Un bel brody Niente Freezer si caga addosso Ma sono confidente Nel cielo blu Ok 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 Andiamo con calma Ok Doppio frost Direi anche Abbastanza strano Ok Il cielo blu Non ci scammerà Il cielo blu Non ci scammerà Il cielo blu Non ci scammerà Ci sta scammando Ci sta scammando Mamma mia Raga C'è lo blu 5 pod Per questa monnezza qui C'è lo blu 5 pod 10 euro E rammentiamo Niente Continuiamo Continuiamo C'è un po' di Di monnezza Che ci aspetta Un altro cielo blu Raga Ho trovato Tre cieli blu In queste multi C'è Multi belle Animazioni belle Ma Contenuto Merdoso Strana questa cosa Ok Qui Go neanche si sforza Rimane In forma normale Neanche va in Super Saiyan Clash nel mezzo Non succede niente C'è un altro cielo blu Un altro cielo blu Scam Vediamo Ok C'è Dacci qualcosina Potrebbe essere un'idea Mamma mia Che bruttura Vediamo Vediamo Se c'è Se c'è La finale Mamma mia Mamma mia Raga Cieli belli Multi brutte Va bene Andiamo con la free Del secondo giro Vediamo E siamo tornati Al cielo verde Con Taipei Però Un cielo verde Che ci mette Un po' In depressione No Perché Arriviamo Da cieli rossi E cieli blu Cielo verde Ci mette Un po' In depressione Pull oro Ci assicuriamo La SP La SP Bella speziata La SP Quella veramente Che non vorremmo Mai trovare E vediamo E vediamo Cosa ci viene Fornito Proprio lui Va bene Sì Ok Omega Taipai Non stai Carburando Diciamolo Oh Oh mio dio Che bruttura Sti banner Ultra Eh Sì 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 Va bene Allora abbiamo shoppato per il bene della scienza Abbiamo visto che non è servito a niente E ora me ne vado a fare colazione Quindi chiaramente il video uscirà all'una Però io ora me ne vado a fare colazione E poi me ne torno a pullare Quindi ci rivediamo con un secondo video Più tardi Fatemi sapere chiaramente se lo avete trovato subito E chiaramente se lo avete provato Se vi piace insomma eccetera eccetera Mi raccomando il like e il commentino E l'iscrizione Non mi fate bestemmiare anche voi che già ci pensa Toshi Ci vediamo più tardi Ciao